Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze e Peretola in direzione Firenze. Code per traffico intenso anche in A12 tra Stagno Nord e Livorno Barriera in direzione Genova. In Fipili sempre a causa del traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita Scandicci e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa ancora per traffico intenso code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece code per veicolo fermo in avaria tra Monte Rigioni e Badesse in direzione Siena. Città di Firenze per lavori di posa della fibra ottica in via Baroni sono attualmente in vigore restringimenti di carreggiate e di vieti di transito fino al 14 ottobre. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!